E' un'unica cosa che posso dire è che non ci annoieremo. Attenzione alla avanzata di Leymar. E' arrivato subito il gol dell'1-0. Hanno aperto le marcature con questo gol. Puppà. Sicuro l'intervento del portiere. Cerca di bucara bene il compagno. Potrebbe essere il gol del pareggio. Sì, a una serie di scambi nel tentativo di far uscire la difesa avversaria e segnarne un altro. Attenzione, tutto solo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. E' ancora presto però per Cantà. Norma del Bambino può portarsi a un solo gol dagli avversari. Non ha dubbi l'arbitro. Potrebbe riaprirsi la gara. Calcio di rigore. Rigore. L'arbitro fisca il rigore. E arriva anche l'ammunizione per il giocatore che ha commesso il panno. Non ci sono dubbi. Freddissimo qui. Il punto è già detto. Meri e Del. Occhio alla difesa perché è scoperta opportunità. Modric. Ha preso la mira. E ha battuto il portiere. Tutto molto bene. Due risultati. Stanno sbagliando poco nel possesso palla. La magia per saltare l'avversario. Imprevedibili. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo. A spazio prova. Palo che respinge il pallone. Occhio a Neymar. Benietta. Potrebbe essere il gol del pareggio. Gol. Conquistano la parità. Ottimo recupero di Pogba. Con questa palla punta la porta. E c'è la rete. Un gol che li ripaga degli sforzi. Recupera. Si fa saltare facilmente. Ederson. Dice di no. C'è il tocco con. Occhio da lì. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare. Una per gli avversari. E ancora presto però. che può girarla. Occasione per accorciare le distanze. Attenzione. Che intervento. Occasione. Ronaldo. Partita che si riapre nel finale. Un solo gol da recuperare col pallone in mezzo. Azione che sfuma. Finisce qui. Ottimo risultato anche grazie al fattore campo. Beh, una vittoria di carattere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.